Andiamo un po' sul concreto. Sappiamo che bene o male in tanti casi non c'è proprio la perfezione della conformità urbanistica. Tante famiglie hanno fatto qualche lavoro in casa, hanno spostato una finestra, abbiamo il garage abusivo. Poi per tutto il resto sono ammesse delle sanatorie? Ha senso farle quando invece il legislatore ci dà un po' di margine di manovra? Allora, ottimo ragionamento, ottimo argomento. Allora, bisogna partire da una situazione di conformità urbanistica a livello di fabbricato. Poi c'è la questione delle unità esclusive, quindi vanno un po' distinti i profili. Se si fa un lavoro sul condominio, quindi classico cappotto sulle parti comuni, oppure se si ragiona magari si affiancano anche interventi sulle parti esclusive. Quindi c'è un doppio profilo, un doppio versante da guardare. Allora, le sanatorie vanno fatte, sì, vanno fatte prima di partire. Chiudete i condoni, mi raccomando, se avete dei condoni aperti non partite con le domande di condono ammezzate o incerte. Dovete ottenere il condono e vuol dire andare al comune e ritirarle, ritirare la concessione sanatoria. Il problema non è il tramezzo non portante e spostato a un bagno dalla signora Marcella. Per me quello è l'ultimo dei problemi. Va regolarizzato e non sto dicendo chi se ne frega. No, diciamo un problema minore, è un ordine molto inferiore. Il problema è che quando si va a fare interventi ad esempio sul condominio, siccome molto probabilmente non sono stati fatti condoni a livello condominiale, non sono state fatte pratiche sanatorie a livello proprio complessivo, perché a nessuno è venuto a mente di farle e perché le normative sono anche cambiate molto. Voi pensate che il testo unico dell'edilizia ha avuto una cinquantina di modifiche, quello del 2001, per cui capiamo bene cosa è successo. Poi c'è le norme di settore, poi abbiamo l'istituto della doppia conformità nelle sanatorie che è, non ve la sto a dire, una roba veramente complessa. Stessa cosa, immagino per le villette stessa cosa, quindi stesso principio. Quindi una villetta che non è proprio, diciamo, regolare, insomma è più alta di un metro rispetto alla carta, comunque bisogna sanarla, questo è chiaro. Esatto, bisogna sanarla se è sanabile, perché bisogna vedere se ci sono le condizioni. Certo, sì, tutto questo pippone che ho detto io lo ripeto, perché magari per una persona che non è addetta a lavori è una cosa che può apparire indigesta. Cioè questa facilitazione apparente che è stata data dal legislatore è limitata solo quando si interviene sulle parti comuni, parti condominali, tetto, facciate. Quando si interviene sulle parti esclusive, invece, bisogna dichiarare lo stato legittimo. Cioè un professionista deve asseverare che l'immobile è conforme sotto vari profili. Villetta schiera, che sono una tipologia ricorrente, è lì sì, bisogna fare tutta la verifica e sperare che sia davvero otto a posto o di stare dentro le tolleranze. Ora qui si fa il conto senza l'oste, però, perché si sta parlando degli aspetti puramente urbanistici. Ma noi in Italia, a livello, diciamo, proprio di norme, abbiamo una trentina di norme che hanno valenza urbanistica edilizia. C'è la mia, che è quella della conformità urbanistica. C'è la tua, quella termotecnica, quindi la legge 10, la ex 4690, che ora è la normativa sugli impianti. E sono tutte norme che mi vanno a incidere sull'agibilità. Ecco perché bisogna ragionare con una visione di insieme, non si può guardare le norme a compartimenti stagni, perché è un gravissimo errore. E tutte queste cose vanno fatte ora in fase di pre-checking. Quindi bisogna muoversi ora per cercare di avere, ammesso che salti fuori una irregolarità, diciamo, rilevante. Quindi qualcosa che non si può regolarizzare con la classica Cila Tardiva, ma è un qualcosa che, ahimè, mi rientra in scia, in sanatoria o, peggio ancora, in permesso di costruire in sanatoria. Bisogna muoversi ora per avere le carte in regola, se va bene, a primavera inoltrata. A quel punto poi entra la fase 2, che è la pianificazione e il progetto del 110. Quindi quasi sei mesi, diciamo, come ordine di grandezza per sistemare le cose, quelle più importanti, diciamo. Sì. Diciamo, qui però devo accendere un asterisco come le pubblicità. Salvo, franca, pubblica amministrazione efficiente. Chiaro. Perché purtroppo abbiamo dei colleghi che ci segnalano che ci sono delle zone d'Italia in cui la pubblica amministrazione ha enormi problemi, tanti, di vario tipo, in cui non è in grado di rilasciare una sanatoria in termini, rispettando termini massimi previsti dalle leggi. Certo. Qui apro una parentesi, ma giusto per capire, da diverse fonti mi dicono che migliaia di famiglie hanno già firmato contratti con aziende per fare il 110 e non è stato fatto nulla di tutto questo. Allora mi chiedo, famiglie che hanno dato acconti, che hanno firmato contratti da decine di migliaia di euro senza avere questa base per poter costruire qualcosa di serio. Comunque, chiudo la parentesi, la mia era solo una valutazione. Passiamo oltre con i vincoli paesaggistici. L'Italia è piena di vincoli paesaggistici, l'abbiamo già visto nel passato anche per il fotovoltaico. Per il 110, per il suo bonus, c'è qualcosa di diverso oppure si procede sempre alla solita maniera. Chiaramente bisogna rispettare le norme paesaggistiche, visto che, hai detto bene te, tante parti di territorio sono coperti da vincoli di varia natura paesaggistici. Ci sono due tipi di vincoli paesaggistici, per cui bisogna fare molta attenzione. Quello che mi viene a mente è che nel decreto rilancio è stato riservato un trattamento di favore per gli immobili che sono sottoposti dei vincoli paesaggistici. Ed è il, va a memoria, comma 2 dell'articolo 119, poi magari verifichiamo a parte. Cioè, a questo tipo di immobili si concede la possibilità di fare gli interventi solo trainati senza quelli trainanti, però chiaramente rispettando le condizioni minime. Quindi salto delle due classi, per esempio. Quindi quei requisiti essenziali restano fermi. Vale anche questa facilitazione per gli immobili che sono magari situati in certi contesti dove il regolamento edilizio o il piano regolatore impedisce certi interventi. Ad esempio, no, centri storici, molti immobili sono o notificati alle belle arti o magari viene scritto, tu cur, guardate, non vi azzardate a mettere i cappottoni sotto tetto perché mi cambiate la conformazione dell'edificio a un centro storico. Può capitare benissimo. Ecco, allora qui il legislatore non se ne è dimenticato e ha detto, guardate, voi che avete dei limiti che non dipendono dalla nostra volontà, vi facciamo fare, vi ammettiamo al 110, non per gli interventi, solo interventi trainanti, ma per i trainati comunque sia restano fermi tutta una serie di condizioni generali che dovete rispettare. Chiaro, chiaro, bene. Adesso apriamo il tema dell'agibilità. Giusto per magari chi non è proprio del mestiere, se puoi dire in due parole la differenza, cioè cos'è l'agibilità rispetto alla conformità invece urbanistica che abbiamo detto prima? Però Samuele, cominciamo a dare qualche buona notizia, se no questo diventa un video demotivante alla fine. Giusto, giusto. Allora, agibilità è un altro vaso di Pandora che andiamo a toccare, nel bene e nel male. Allora, una domanda ricorrente è, serve l'agibilità come elemento, come condizione per partire nel 110? No, la norma non ce lo chiede. Però io professionista che devo fare le verifiche di conformità, tanto quando sono a acquisire tutte le pratiche edilizie, acquisisco anche le vecchie abitabilità, agibilità del passato, se sono state rilasciate, non si trova, non è stata rilasciata, oppure è un immobile risalente, vecchio, non l'ha mai avuta l'abitabilità perché l'edificio è stato costruito prima dell'invenzione dell'abitabilità, agibilità. A proposito, d'ora in avanti, diciamo agibilità e abitabilità, ma l'agibilità ha assorbito anche l'abitabilità dal 2001. Allora, sicuramente il problema bisogna porselo, perché? Una grande raccomandazione, perché anche qui, Samuele, ha una domanda, non so se te l'hanno fatta spesso a te, a me me l'hanno fatta da alcune zone d'Italia. Edificio incompleto, una nuova costruzione che si è fermata a metà strada. Ho fatto la struttura in cemento armato, ho fatto le tamponature, mi manca le rifiniture, mi manca gli impianti. Allora, si può classificarlo quello come edificio esistente? Ma, ai fini dell'eco bonus, se non ha l'impianto funzionante, non se ne parla neanche, per cui questo va subito in batteria. Ovviamente sismo bonus, via. Però c'è da fare un altro ragionamento. È un edificio esistente? No, è un edificio che si è fermato a metà strada, almeno nel primo processo che lo porta alla nascita. Quindi, se un professionista si trova un edificio che è in queste condizioni, quindi è un po' arrustico o non è proprio arrivato a destinazione. A fine lavori, nonché agibilità, mi porrei il problema. Per cui ritengo, poi vediamo gli interpelli, vediamo cosa succederà, ritengo che intanto mettiamo da parte gli edifici le nuove costruzioni mai arrivate a completamento e quindi non hanno l'agibilità. Cioè, non trovo l'agibilità, mi suona come un indizio su cui il professionista deve fare ulteriori raggiuntamenti. Quindi, via questo. Edifici completati e che magari non hanno l'agibilità. Che è successo? Perché non c'è l'agibilità? È un immobile del 400? Ok. Non sono mai stati fatti interventi successivi che hanno snaturato l'unità immobiliare e l'edificio, quindi non era necessario rilasciare una nuova agibilità. Ok. È stato fatto un condono. L'agibilità ci vuole. Lì mi ci vuole. Con un condono che abbia avuto un'incidenza sostanziale sull'unità immobiliare o sull'immobile, lì è bene che ci sia l'agibilità. Anche perché l'agibilità non è solo una questione urbanistica. È anche una questione di sicurezza, una questione impiantistica, di risparmio energetico, di barriere architettoniche. Poi, non ci dimentichiamo, noi abbiamo avuto tre condoni edilizi. Il terzo condono era parecchio ostico. Mi viene da consigliare, verificate bene soprattutto il terzo condono perché non è stato rilasciato o se ha le condizioni per essere rilasciato. Anche per il secondo vale questa raccomandazione. Il primo era un pochino più malleabile, al netto dei vincoli. Quindi, ora, escludendo quindi tutte queste categorie, immobili sono state costruite con regolare concessione, licenza e permesso. Non c'è, diciamo, soprattutto quelli più recenti, diciamo quelli con permesso e concessione, dopo il 1977. Non c'è l'agibilità. Come mai? Perché non c'è l'agibilità? E a livello di collaudo strutturale, collaudo statico, come siamo messi, cioè l'agibilità la posso dare oggi perché qualcosa è andato storto, il costruttore è scappato, sono stati fatti gli atti di vendita e se ne sono fregati tutti e sono tanti casi di questo tipo, purtroppo. Ecco, questa è l'occasione, il momento di fare un check-up e capire dove siamo, anche ai fini del 110, ma soprattutto ai fini per se stessi. Questo vale soprattutto per gli immobili soggetti a permesso, quindi quelli dopo il 2001. Ecco, a maggior ragione poniamoci il problema, perché se non ho l'agibilità possono essere successe due cose. È solo un problema formale. Il costruttore aveva promesso di farmela, ma ha venduto l'immobile, è fallito, è scappato, è irreperibile. La posso ottenere oggi l'agibilità? Risposta sì, no. Sì, la posso ottenere, benissimo. Sarebbe bene averla prima del 110, così non succederà mai un accertamento, ma almeno sono pulito e ho un edificio che veramente è arrivato a un fondo, come diceva già la norma. Invece la risposta è no. Ecco, non posso dare l'agibilità oggi. Come mai? Perché mancano dei requisiti. Manca il collaudo statico, perché il costruttore è scappato prima ancora che il collaudatore strutturista facesse quello che doveva fare. O. Qui si apre una parentesi forse un po' più grande, perché allora potrebbero aprirsi delle irregolarità di tipo urbanistico sostanziali, quindi non è roba da cila tardiva, non si sta parlando dei tramezzo spostato, si sta parlando di roba importante. Ho maggior ragione, le opere strutturali non si scherza. Qui è bene fare il punto alla situazione. Ora, finiti tutti gli scenari, si dice, hai verificato l'agibilità. C'era, non c'era, la posso ottenere, ahimè non la posso ottenere, devo sanare, ok. Sulla questione dell'agibilità aggiungo, gli interventi col 110, tutti quelli che abbiamo visto e che ci sono ancora, sia sisma bonus, ma sia anche quelli ecobonus, sono interventi che vanno a incidere in maniera massiva sull'immobile, su risparmio energetico, saltare due classi, si va a cambiare tanto l'organismo edilizio, anche a livello impiantistico, a maggior ragione a livello condominiale, ma anche a livello esclusivo. E poi in genere queste ristrutturazioni, Samuele, saranno accompagnate anche da opere murarie, cioè uno fa i 110, fa le opere trainate, cambia gli infissi, ma magari cambia, cambia anche tra mezzi, fa le modifiche al pavimento, mi fa un pavimento radiante, non lo so che mi fa. Insomma, si va a incidere molto sugli aspetti e requisiti dell'agibilità, tra cui il risparmio energetico, che è uno proprio tra quelli menzionati e che mi condiziona l'agibilità, il consiglio che voglio dare è fate l'agibilità in fondo al 110, mettetela e prezzatela nei preventivi perché è necessario. Sacro santo. Cioè basta un'autocertificazione o come accennavi prima bisogna raccogliere le verifiche acustiche piuttosto che sismiche e quant'altro? Giusto, però ho dimenticato dell'acustica, che è trattata come una scenerentola, però hai fatto bene a sollevarla perché si va a cambiare gli infissi, si va a cambiare molto il clima acustico e si va anche a incidere sulle facciate con sistemi di coibentazione di vario tipo, se si fanno facciate magari anche ventilate col cappotto, chi lo sa, ora qui c'è tanta fantasia. Poi vabbè ci sono quelli che fanno il rasante ultra fine, ultra nanotecnologico. Perché poi vanno su striscia. Esatto, non lo fate ragazzi, chiamate professionisti qualificati, vi fanno loro l'analisi e vi dicano quali sono i materiali che rispettano i CAM e i requisiti termotecnici perché sennò il rasantino con l'intonachino, no, lasciamo stare. Fatte tutte queste verifiche, bisogna presentare la segnalazione certificata di agibilità dove il professionista tecnico, verificato tutto, riscontrato tutto, allega eventuali elaborati necessari e previsti dalle norme, attenzione anche alle norme regionali che sull'agibilità hanno aggiunto del materiale e delle indicazioni. Fatto questo, allora il professionista che fa la, diciamo, chiude il processo edilizio, lo chiude anche con l'agibilità, con la segnalazione certificata di agibilità. Ok, quel bel documento. Sì, io non voglio fare il terrorista, è che sia chiaro. Io sì, ci sono abituato. Grande. È che tutti fai tutto gratis, facciamo, facciamo, paga lo Stato e tutti sono felici. È che io ci tengo particolarmente a tutelare le famiglie che sono quelle che purtroppo hanno meno competenze perché tutti fanno altri lavori e allora è nostro compito anche educare queste persone. Grazie intanto della tua disponibilità, veramente consigli preziosi, visto che anche il tuo lavoro di consulente, avere questi consigli pubblici per me è veramente stato un onore. Invito a tutti, se vogliono approfondire queste tematiche, di andare sui canali di Carlo Pagliai, quindi su YouTube, su blog, su Telegram, Instagram, Facebook, insomma, lo trovate ovunque. Grazie veramente ancora. È stata anche l'occasione, secondo me, questo super bonus per avvicinare i vari professionisti di tematiche diverse. La squadra, tu l'hai detto molte volte durante questo video, vince. Bisogna lavorare in squadra con competenze diverse, ultra specializzate, però solo insieme si riesce a fare un lavoro fatto bene a tutela della famiglia. Carlo, grazie ancora e ci vediamo ovviamente sui tuoi canali e a presto. Grazie ancora. Bene, Samuele, ti ringrazio. È stato un mio onore e saluto tutti i tuoi spettatori e followers. Grazie. 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 Grazie.